Siamo con il Bomber Guerra, oggi in occasione del tuo primo gol in Magliarossublo, cosa hai provato? Ho provato una bella sensazione, è stata una bella emozione segnare con questa maglia. Ringrazio i tifosi per il loro sostegno e spero di continuare ad esultare per arrivare il più in atto possibile. Sei arrivato a fare il gol, quali obiettivi, quali pensi di permettere ai tifosi? Spero di sudare sempre la maglia, di impegnarmi sempre e farmi trovare sempre il punto di Antonio Boemio e della squadra. Spero di portare questa società, questa squadra nelle catture che contano.